Eccoci in compagnia di Stefano D'Ambrosio di Italiana Design. Ciao Stefano. Ciao. Una vita con merchandising e abbigliamento federale e se non sbaglio dal 2011 con il Team Italia. Sì, collaboriamo dal 2011 con il Team Italia, ci siamo trovati molto bene, abbiamo rinnovato di anno in anno e stiamo crescendo insieme a voi. Abbigliamento di tutti i tipi per il Team, invernale, estivo, pista, fuori? Sì, noi facciamo merchandising per le aziende e quindi produciamo e distribuiamo abbigliamento di tutti i tipi e a seconda delle varie esigenze. Per il Team negli anni abbiamo affinato le caratteristiche del prodotto e penso con soddisfazione reciproca. E soprattutto dicevi che i vostri prodotti, merchandising federale, può essere acquistato anche su internet. Sì, potete andare sul sito di Italiana Design dove c'è una vasta scelta a marchio Italiana Design oppure sul nostro sito di merchandising stegip.it dove vedrete degli esempi di materiale che si può personalizzare a seconda della richiesta del cliente. Ricordiamo anche l'FMI Store per il merchandising federale dove si è possibile trovare anche la maglia azzurra, l'edizione del decennale, quella di questo 2015. Dal 2011 collaboriamo con la federazione motociclistica anche per quanto riguarda il merchandising ufficiale della federazione. Quindi su fmistore.it si possono trovare tutti gli articoli a marchio Federazione Motociclistica e la maglia azzurra 2015 con il decennale del Team.